In un inglese colloquiale, anche i laureati ad Oxford, soprattutto nello scambio di email, usano la IDIM, la mettono minuscola. Quindi se ci sono in ascolto professori d'inglese o esperti di lingue, sfido chiunque a dire il contrario. Ma noi non ci dobbiamo giustificare di nulla, ora ci dovranno spiegare cosa ci fa la Glass lì con un pegno di primo grado. Non lo hanno mai spiegato, come non sanno spiegare Ossiemme, come tante altre cose che non hanno mai saputo spiegare. L'unica cosa che sanno fare è offendere. Io vi voglio solamente dire una cosa, l'avvocato Pierre, la mail della signora Mia Drennan, non siamo pazzi che comunque tiriamo fuori il nome di Mia Drennan così, non siamo malati in mente, anche perché se qualcuno ci volesse contattare in privato, mi verranno forniti documenti dei nostri legali. Sono due avvocati, l'avvocato Michele e l'avvocato Pierre. La mail è stata letta da un avvocato, anche se non si fa vedere, ma non si fa vedere per motivi lavorativi, ma in privato sono disposti i nostri legali. Lo ha spiegato Pierre, qualora ci fossero delle persone autorizzate, che lavorano per testate giornalistiche, mi mettete in contatto con me, io vi metto in contatto con loro e poi ci penseranno loro a confrontarsi con voi. Io vi voglio dire solamente una cosa, qui non c'è nessuna setta, la setta è da un'altra parte, perché o è così o è così, qui non c'è nessuna setta, ci devono spiegare cosa fa la Glass Trust con un pegno di primo grado, no? Con un pegno fino alla controllante, suo Don Kongo, non collaborando né con O3. L'Inter, l'avete letto, cosa ha detto la signora Drennan, qui siamo tutti persone serie, professionisti, padri di famiglia, non siamo dei malati di mente e tiriamo fuori una mail falsa, la mail non è che è vera di più, io so anche chi ha scritto la mail ovviamente, ma non lo posso dire, è stato cancellato, no? Chi ha scritto la mail, abbiamo solto ovviamente il nome e il cognome, anche perché io vi voglio dire solamente una cosa, noi ci siamo stancati, occhio, occhio, poi ognuno si prende le proprie responsabilità, occhio a dire quella mail falsa perché è stata letta anche da un avvocato, ve lo ripeto, occhio a dire quella mail falsa perché poi ha qualcuno di arrivare e tenino a casa. Visto che poi qualcuno dice di avere conoscenze ad altissimi livelli, contattate, come ha detto Pier, in maniera strutturata la signora Drennan e chiedetegli se ci ha rilasciato quella mail oppure no, perché noi, noi con un legale in live, anzi ieri sera con due avvocati in live, noi non parliamo di cose che non sono vere anche perché avremmo fatto un reato. Noi non siamo qui per fare reati, come fa qualche di un altro, offendendo o diffamando, non siamo matti. Quella mail ovviamente è vera e purtroppo qualcuno ci rimarrà male. Ciao Inter!